La caccia è la pratica di catturare o uccidere animali per procurarsi cibo, pelle o altre materie oppure per scopo. Ricreativo la caccia fu certamente una fonte primaria di sostentamento in passato e nei paesi industrializzati la caccia ha perso il ruolo di sostentamento diventando invece un'attività ricreativa o condotta allo scopo di commerciale ricavato della cattura o dell'uccisione degli stessi animali. La caccia però può avere anche un ruolo di gestione della fauna selvatica, delle capacità di sostentamento dell'ambiente ecologico. La caccia però divide tra pro e contro sia all'interno delle istituzioni che delle stesse associazioni venatorie. Di questo e altro parleremo oggi con Armando Morelli, presidente di Federcaccia Abruzzo. Grazie, buonasera. Grazie di essere tornato qui a Super J a 45 giri, ci siamo già occupati lo scorso anno della questione della caccia, del calendario venatorio, ci sono ancora dopo un anno non e mezzo gli stessi problemi in merito al calendario venatorio ma parleremo anche di altro, però prima vorrei affrontare appunto dopo questa introduzione sulla caccia la questione appunto di caccia e cacciatori perché è un universo sicuramente sconosciuto e più. Ma sicuramente è un mondo che ha vissuto fino ad oggi, fino a qualche anno fa, chiuso al suo interno. Lei ha fatto un'introduzione che ha raccolto un po' tutti gli aspetti e le definizioni che si sono sempre date della caccia. Un consultivo della storia della caccia. Eh sì, un po' ha fatto il riassunto di un secolo di incidenza di quella che è la caccia, che è stata la caccia in passato anche sulla società e tutto il resto. Di poco tempo fa, lei è giovanissima, ma i nostri padri, i miei padri di quelli della mia età hanno vissuto il periodo della guerra, del fascismo, periodi di magra per la nostra nazione, per cui il governo è detta via libera alla apprensione della carne selvatica per il sostentamento della popolazione. Quindi sono periodi storici così. Oggi effettivamente lei ha esposto correttamente quello che è la caccia. C'è un aspetto ludico, c'è un aspetto ricreativo in qualche modo, ma insomma noi preferiamo parlare di passione. Quindi la caccia è più uno sport o una passione? Sì, sport nel senso che è per forza movimento, quindi ci impone di stare un attimino allenati, cose che io oggi non rappresento molto, essendo appesantito abbastanza. Ma insomma il movimento Ma il cacciatore non deve avere per forza una physique du role, essere alto, essere macro? Ma sicuramente deve muoversi, deve camminare. Se poi è un cacciatore che utilizza i cani tutto l'anno, addestra i cani, c'è la passione e l'amore per questo animale. C'è tutta una serie di cose. Non ultimo, si tende a far rimarcare da parte dei nostri denigratori questo fatto di uccidere, di abbattere un animale, un selvatico, di non mettere in primo piano invece quello che è lo spirito nostro, che è quello della competizione con un selvatico che ha dalla sua sicuramente l'ambiente, le qualità naturali per sfuggire al cane, per sfuggire al cacciatore. Il cacciatore dalla sua ha la possibilità di utilizzare un fucile che è un'arma che sicuramente riesce a colpire a distanza, a differenza di secoli fa quando si cacciava sicuramente con attrezzature meno precise. Infatti abbiamo visto anche delle immagini. Questo è uno degli aspetti. Però la caccia oggi ha un ruolo anche importante per l'intera società e soprattutto per il mondo agricolo. Non dimentichiamo i danni che possono fare, che fanno, non che possono fare, che fanno i milioni e milioni di storni, che sono stupidamente protetti da una leggina europea e che fanno danni alle nostre città, ai nostri oliveti, ai nostri vigneti. Sono danni di un valore enorme che la società paga. Parliamo poi degli ungulati, parliamo di caprioli che tutti definiscono questo bambi bellissimo. Abbiamo l'immagine sicuramente di caprioli. L'immagine che si dà è questa, certamente, cartoni animali e quant'altro per i bambini si fa vedere questo animaletto che fa più danni oggi un capriolo che non una famiglia di cinghiali. Parliamo di danni all'agricoltura. Danni alle colture, ai boschi, alle colture, ai frutteti, a tutto qua e quant'altro. Sono cose che ora non è che vogliamo essere i salvatori della paria, ma per dire che il mondo dei cacciatori oggi non è chiamato a divertirsi. Oggi il mondo dei cacciatori ha anche un ruolo che il Parlamento gli ha assegnato, che è quello della gestione di questi animali. Infatti ho parlato proprio di ruolo della gestione della fauna selvatica. E lei ne ha parlato, esatto, certamente. Perché chiaramente il nostro compito, gestiti poi dalla regione e dalla provincia, che è tenuta a fare i piani di contenimento, i piani di controllo, è mantenere sul territorio un numero di selvatici adeguato che il territorio può sopportare. Ma questo anche a salvaguardia di quella specie. Perché se i numeri diventano enormi, ogni animale, ogni specie è soggetto poi a malattie che potrebbero distruggerle. Tutti i volatrici sono soggetti alla malattia aviaria. Dio ci guardi da una insorgenza di peste suina, che significherebbe poi dover bruciare e abbattere animali domestici e selvatici in ogni dove, fino a che non si riesce a debellare questa catastrofe. Per cui, ecco, voglio dire, abbiamo anche un ruolo e collaboriamo con le istituzioni pubbliche per questo. certamente il cittadino che fa la sua vita, che lavora la mattina dalle otto alle otto di sera, torna a casa, a cena, si guarda la televisione, ma chi ne sa, non gli importa neanche poi alla fine. Non conosce il ruolo. Non conosce queste cose, diciamo. Non è che ci siano tanti servizi in televisione pro cacciatori. Anzi, ci sono invece molti servizi pro animalisti, pro ambientalisti. Ecco, lo strano rapporto tra cacciatori, ambientalisti e animalisti. Ma vede, lo strano rapporto, cioè, poi strano, è un rapporto conflittuale sicuramente con la maggioranza degli ambientalisti e soprattutto degli animalisti, ma bisogna anche dire che siamo in ottimi rapporti con alcune organizzazioni ambientaliste, per esempio con l'Egambiente. Noi dalla Federcaccia collaboriamo e cooperiamo con tutte le progettazioni a livello nazionale di gestione faunistica e tutto il resto. Quindi l'Egambiente... Quindi avete un buon rapporto con l'Egambiente. Assolutamente, alcune sì. Ne abbiamo, per esempio, con l'organizzazione dei presidenti dei parchi, no? Con cui collaboriamo a ogni livello, a livello scientifico, a livello di programmazione e di progettazione per il controllo della fauna. Con l'Egambiente come siete riusciti a avere questo... In campo nazionale abbiamo fatto proprio una convenzione di... Perché a capo, o attualmente a capo dell'Egambiente ci sono persone illuminate che hanno capito che la caccia non è poi così distruttiva. Cioè che il cacciatore non è un nemico, non è un criminale. Certamente, come tutte le attività umane, se anche la caccia viene realizzata e quindi ogni cacciatore si comporta nel rispetto delle leggi, delle regole che gli si danno, che esistono e sono previste dal Parlamento. Con i programmi di gestione che la Regione e le province ogni anno organizzano non ci sono problemi. Poi, se ci sono bracconieri, se ci sono delle devianze dalla legge, come il cittadino che deposita in banca è un cittadino corretto. C'è il ladro che va in banca a rubare soldi, non per questo chiudiamo le banche, no? Bisogna restare il ladro che va a rubare. Lei ha citato la parola d'ordine, ci sono le regole, quindi voi avete dei regolamenti specifici e non potete sgarrare nulla. Assolutamente. C'è la legge nazionale che stabilisce, il governo stabilisce il calendario generale, quindi le aperture di massima della caccia, apertura e chiusura. Delega alle regioni poi di stabilire un calendario specifico, specie per specie, nel rispetto della biologia di ogni animale. E ogni regione poi... Beh no, non è che può fare come vuole, per esempio il cinghiale dovrebbe essere aperto dal primo di novembre al 31 di gennaio, questa è la legge nazionale, però dà la possibilità alle regioni, in caso di esigenze particolari, di anticipare la caccia al cinghiale. Però gli dice, guarda che puoi fare in totale sempre 90 giorni, non di più, e non puoi superare il primo di ottobre, non puoi anticipare oltre il primo di ottobre. Quindi voglio dire, in questo margine la regione può decidere più o meno 10, 15, 20 giorni prima, spostare questo per fare un esempio. Queste regole però sono dettate da specificità, c'è una ragione dietro a queste regole abbiamente? Sì, lascia campo aperto, perché ci possono essere ragioni di agricoltura da dover difendere prima, magari poi sono regioni che sono soggette a nevicate nel mese di gennaio, per cui impedirebbe un mese di caccia, anticipate un mese prima, chiudete un mese prima. Quindi c'è sempre una ragione concreta su questo. Poi però che capita? Che in alcuni uffici caccia, in alcuni uffici caccia regionali, si tende magari per idee personali di alcuni impiegati a tentare di restringere e comprimere sempre questi periodi di caccia per alcune specie. E lì nascono i conflitti tra ambiti territoriali di caccia, tra associazioni e questi uffici ed è quello che sta capitando. E qui entriamo nel merito di quello che sta accadendo in queste settimane nel Terramano, di cui abbiamo avuto contenza. Beh no, in tutta la regione Abruzzo. In tutta la regione, ma anche nel Terramano con le due ATC Vomano e Salinello. Però prima di entrare in questo discorso, però hai detto di regole che arrivano dal governo, quindi comunque il governo Renzi come si è comportato in questi mesi? In linea generale, nella sua normalità, in quanto le cose che il governo si è tenuto come decisione per far rispettare poi quelle che sono le linee europee, sono quelle che gli competono per legge, cioè l'elenco delle specie cacciabili. Ecco, quindi in realtà ci sono le regole, ci siamo dimenticati di dire, che forse arrivano anche dall'Europa. Sì. Quindi c'è a bomba l'Unione Europea che è detta. Beh a volte, in generale incide un po' su tutto, non certo nei particolari di un calendario venatorio, non ai minimi particolari, però in generale su quelle che sono le specie, su quelle che sono da proteggere, su quelle che entrano in crisi perché magari nel corso degli anni non sono più, che non godono di un'ottima salute in quanto a quantità. E allora in quel caso l'Europa, data l'indicazione ai governi, dice guardate che la beccaccia è in una fase critica, oppure la beccaccia gode di ottima salute, è così per le altre specie, a volte ci indovina, a volte no, a volte questo poi rientra nel campo della discussione, ma in generale è così. Quindi poi il governo decide, per esempio, che quantità di cacciatori ci può stare in un determinato territorio, e lì la regione non può decidere niente. Quelli sono i numeri, la regione non può fare altro che fare il calcolo. Quindi dice agli ATC, dice guardate che nel tuo ATC, avendo un territorio di 50.000 ettari non puoi ammettere a caccia più di 3.000, 4.000, 2.000 cacciatori facendo un calcolo matematico che il governo ha deciso. E oggi qui in Abruzzo quanti cacciatori ci sono? Siamo scesi di molto, siamo al di sotto dei 10.000. Al di sotto dei 10.000? Sì, prima eravamo 33.000. 33.000 che dato, da che anno proviene? 33.000 parliamo dalla prima del 92, poi c'è stata una discesa costante. Quindi sicuramente una perdita di appassionati possiamo dire. Abbiamo perso un po' proprio quei cacciatori della domenica, chiamiamoli così, ma non per offenderli. La vecchia generazione? No, c'era stato il boom economico degli anni 60 e allora la caccia era diventata anche quella un qualcosa da realizzare. Quindi molte persone che volevano fare la passeggiata oppure volevano sperimentare questa attività, eravamo arrivati quasi a 2 milioni di cacciatori in Italia. Insomma il numero era piuttosto altino. quindi negli anni mano a mano che si sono viste le regole ristrette, norme più ferre e tutto il resto hanno mollato. Oggi sono rimasti i cacciatori, quelli che veramente sentono la passione e che non molleranno mai. Quelli che hanno la passione luda e cruda, che non molleranno mai, come dice. Quindi in Abruzzo da 33.000 a 10.000, sicuramente è una diminuzione notevole. Sì, con gli impegni che abbiamo oggi, insomma, parlo di impegni, il dovere che abbiamo di contenimento e queste cose. L'impegno adesso per esempio si chiude la caccia a gennaio, no? E noi da febbraio dobbiamo cominciare a contare i cinghiali, contare i caprioli, vedere quanti ce ne sono e intervenire anche in questo caso. Comincia a diventare un impegno... Il periodo di caccia dunque è abbastanza ristretto, quindi parte a settembre... Parte da, diciamo, la terza domenica di settembre... A settembre... Al 31 gennaio. È un po' come il campionato, mi verrebbe da fare, vabbè, un paragone, il campionato di football americano, no? Settembre e gennaio è cortissimo, cioè in quattro mesi se fosse uno sport sarebbe... E non tutte le specie sono aperte per questo periodo. Il 31, entro il 31 si gioca il Super Bowl, insomma, è una ristretta. Sì, sì, sì. In questo periodo, poi, ripeto, non tutte le specie è possibile cacciare in questo periodo, perché sempre la beccaccia apre da ottobre, e a settembre invece apre la stanziare, la lepre, che poi però si chiude il 15 di dicembre, quindi non arriva il 31 di gennaio. Ecco, poi ogni anno accade qualcosa. Quest'anno il governo Renzi ha previsto una chiusura anticipata, ha previsto una chiusura anticipata a diverse specie. Ecco, parliamo sempre della beccaccia, ma anche del tordo, della Cesena, il 20 gennaio. Questa era la data di... quindi una chiusura anticipata. Perché queste chiusure anticipate? Poi il governo si è giustificato perché è l'Europa che lo chiede, altrimenti arrivano le sanzioni, quindi è l'Unione Europea che vuole queste chiusure anticipate, però lo spettatore, cioè il cittadino non capisce poi il... No, perché il cittadino non è che può seguire nei particolari quello che capita, poi dove effettivamente c'è correttezza nell'intervento e dove invece c'è la volontà politica. Allora, il governo, il governo, e lì è stato Galletti, che personalmente avrà assunto qualche impegno con qualche organizzazione animale, e quindi ha tentato di ridurre con quelle quattro specie. Quindi è ideologica? Sicuramente, certo. Tant'è che la Corte Costituzionale gli ha bocciato questo intervento e gli ha detto che non poteva farlo, l'intervento di Galletti oggi è nullo, è nullo in questo senso, però molte regioni, alcune, l'Abruzzo, il Molise, il Piemonte... Ha recepito in realtà questa chiusura? Ma lo aveva fatto già anno scorso, prima che Galletti si fosse morso, già anno scorso c'è stata questa diatriba, perché anno scorso la regione Abruzzo, contrariamente a quello che dice la legge e che dice l'Europa, chiudeva la beccaccia il 31 di dicembre, ci siamo opposti e l'hanno portata al 10 di gennaio, ci siamo opposti ancora e hanno fatto questa forma restrittiva che adesso spiegare qui è un po' strana, cioè è difficile, rientriamo un po' nel tecnicismo. Allora dice la regione, la beccaccia si chiude il 10 di gennaio, la caccia normale, regolare, poi dal 10 di gennaio al 20 di gennaio, per 10 giorni, dal primo di ottobre al 10 di gennaio è caccia libera la beccaccia, se viene, perché la beccaccia non sta qui da noi, la beccaccia deve aspettare il tempo cattivo dalla Russia, quando li gela, allora la beccaccia arriva da noi, se no non arriva, quindi non è un animale nostro che noi controlliamo, quindi noi dobbiamo soltanto tecnicamente raccogliere i dati sulle presenze di beccaccia e questi dati li forniamo poi all'ISPRA, che sarebbe l'istituto superiore di protezione ambientale e ministeriale, cioè governativa, quindi l'ISPRA è quella che ha i contatti con l'Europa e gli dice guarda che quest'anno qui da noi le beccacce sono arrivate in questo periodo, ne sono questa quantità, ne sono state abbattute tante, che noi forniamo anche poi la risposta di quanti abbattimenti ci sono, forniamo anche la prova provata di questi animali abbattuti, forniamo le ali, le recidiamo e le forniamo all'ISPRA, quindi allora tutte queste cose che noi facciamo, poi la regione dice dal 10 di gennaio però al 20 di gennaio, se ci volete arrivare per andare a caccia, bisogna che l'anno precedente gli ambiti di caccia facciano il monitoraggio sulla territoria di quanti animali ci sono e spiego perché anche. Allora la regione dice, al nostro modo di vedere, la beccaccia riparte dall'Italia per tornare nei posti di nidificazione, quindi è la fase prenuziale si chiama, riparte dal 10 di gennaio in poi, mentre noi prima facevamo i cacciatori così, oggi siamo cacciatori che sul territorio siamo strutturati anche scientificamente, studiamo e allora noi abbiamo accertato ed è ormai accertato non solo in Italia, negli altri paesi dovunque la beccaccia va a svernare, allora la fase prenuziale parte dal 10 di marzo, 10 marzo, due mesi dopo di quello che dice la regione Abruzzo, quindi questi rilevamenti che noi abbiamo fatto con il radiocollare, su beccaccia catturata e tutto il resto hanno dimostrato questo fatto, però la regione Abruzzo continua ancora quest'anno a dire, no, dice se voi non avete fatto il monitoraggio in questo modo, è detto alcune regole, dovete valutare, monitorare la beccaccia su almeno il 10% del territorio vocato per la beccaccia, sono tutti dati aleatori, il 10% sul territorio vocato, qual è il territorio vocato? Lo stabiliscono gli ATC, gli ambiti territoriali di caccia, che hanno fatto questo lavoro l'anno scorso, l'hanno fatto nel mese di marzo ed aprile, al mese di maggio hanno mandato tutto a questo materiale tecnico, monitoraggio con relazione dei tecnici e tutto il resto alla regione Abruzzo, la quale si è ben guardata da mandarlo all'ISPRA, se lo tiene solo per poter dire quest'anno se noi possiamo cacciare dal 10 al 20. La interrompo perché dobbiamo andare in pubblicità, però ricordando che il motivo del contentere adesso ci siamo entrati proprio in questo momento, relativo anche a dei corsi che non sarebbero stati autorizzati dalla regione ma dalla provincia. Spieghiamo adesso o dopo? Poi spieghiamo, andiamo in pubblicità e spieghiamo tra qualche istante. Ripartiamo dalla caccia alla beccaccia, per usare il gioco di parole, anche perché Federcaccia poi recentemente c'è stata anche una conferenza stampa con gli ATC Salinello e Vomano, c'è stata una sorta di dichiarazione di guerra alla regione per il nuovo calendario venatorio, ecco ripartiamo da questo. Sì, la conferenza stampa, per precisare perché se no sembrerebbe che Teramo sia contro qualcuno o qualcosa, erano presenti 8 ATC della regione Abruzzo su 11, 8 ambiti territoriali di caccia che non hanno avuto riconosciuto. I due teramani sono Salinello e Vomano. Due, Salinello e Vomano, questo è il teramano, poi c'è la latticiva stese del Chietino e c'erano 5 ambiti su 6 della provincia dell'Aquila, c'erano le associazioni Libera Caccia, Federcaccia, c'era il rappresentante dell'Arcicaccia di Chieti, gli enti produttori di Selvaggina, quindi c'era... Che poi è in disaccordo con l'Arcicaccia Teramo, ci sono anche delle questioni interne, se ne parlava anche prima, una cosa da notare, delle associazioni, vabbè. La Libera Caccia dell'Aquila e Bruno Santori di Teramo e del segretario nazionale, del nostro avviso, poi ci siamo ritrovati che ieri c'era un rappresentante vibratiano della Libera Caccia insieme all'Arcicaccia che però non ha proferito parola. Io da vedere la faccia del nostro amico qui di Colonnella abbiamo avuto l'impressione che stesse come un pesce fordacco, forse l'hanno invitato, forse anche a lui è arrivata una mail particolare. C'è stata proprio la risposta di Enel Caccia, Arcicaccia, Libera Caccia a quanto fatto alla conferenza stampa dei giorni scorsi degli ATC Salinello e Vomano, una risposta dicendo voi non ci rappresentate. Questo è il senso. Quindi tanti dissidi all'interno dell'associazione. Sì, l'ho sentita la conferenza. Quindi non lottate solo contro animalisti e ambientalisti ma in realtà tra di voi non... Eh, questa è l'impressione che si è voluta dare. Non c'è unità di intenti. No, allora se io dico che il segretario nazionale della Libera Caccia, che il presidente regionale dell'Enal Caccia, se il presidente di Feder Caccia, il presidente di Libera Caccia, siamo tutti sulla stessa linea, che poi viene un presidente provinciale di Teramo, di un'associazione venatoria, io credo che rappresenti se stesso. Insomma la linea dell'associazione dovrebbe essere univoca. E lì poi è emersa una cosa. Il rappresentante provinciale dell'Enal Caccia non ha detto niente. Intervistato ha detto, a me sembra questa una guerra politica. L'avvocato Olivieri. Ha detto, a me questa è una guerra politica. Beh, l'impressione è che ci sia molto di ideologico dietro. Eh, si vuol far passare in questo momento che sia una guerra politica contro qualche politico di questo momento, no? Insomma, per non tirarcela a lunga. Sembrerebbe che ce l'abbiamo con l'assessore Pepe e che vogliamo fargli pagare qualche cosa. E così non è? Assolutamente. Pepe sa perfettamente che ci siamo messi a sua disposizione non appena stato eletto. Abbiamo dato tutta la nostra disponibilità da sempre, dal primo momento. Purtroppo lui ha preferito seguire quelle che sono state le indicazioni che l'ufficio caccia regionale gli ha dato e lo sto mettendo in queste beghe. Purtroppo per lui i perdenti, perché scientificamente... Quindi cosa ha sbagliato Pepe? Ha sbagliato a non gestire lui? Cosa avrebbe sbagliato? Per noi ha sbagliato a non seguire... A non seguire, perché non deve seguire il nostro, noi non diamo direttive. Noi siamo disponibili a dare il nostro contributo, perché tecnicamente pensiamo di essere validi. C'è un ufficio caccia regionale di cui non abbiamo nessuna fiducia e nessun rispetto nelle persone che ci sono, perché lavorano ed operano contro l'assessore e contro di noi. L'assessore Pepe non se ne è reso conto, ha dato fiducia a quelli lì e oggi raccoglie quello che raccoglie. Lei sta dicendo che questi dirigenti non sono capaci, forse perché anche... No, sono capacissimi a creare confusione. No, magari non conoscono, lei dice, magari non conoscono neanche troppo la materia, quello che dovrebbe essere il senso. Il tende capo non la conosce assolutamente la materia, però anche lui, siccome essendo piuttosto anticaccia, si lascia guidare da alcuni sottoposti che invece sanno come muoversi all'interno e creare confusione con gli atti amministrativi, tutto qui. Però poi alla fine gli si sgonfia tutto perché, come dire, poi la verità tecnica, scientifica e il rispetto delle leggi viene fuori. Può durare un anno, un anno e mezzo, due anni, ma poi alla fine viene fuori e sta venendo fuori. Sta venendo fuori. Questa è la realtà. Quindi dicevo, quello che l'Arcicaccia ieri ha dichiarato è al vaglio degli avvocati degli ambiti di caccia. Perché lui ha dichiarato, come lei diceva poco fa, ha dichiarato che il corso per monitoratore di beccacce fatto dagli ambiti di caccia l'anno scorso non è valido. Non erano autorizzati... Non erano formati correttamente. Autorizzati dalla regione. Esatto. E quindi non sono formati... Cioè, dal momento che la regione non riconosce un corso, vuol dire che quel corso è sballato. Ma questo è stato dichiarato anche dagli ATC, che non erano autorizzati alla regione. Lo dice l'Arcicaccia? Lo dice anche... L'hanno detto anche i membri dell'ATC Salinello e Bumano, che non erano autorizzati alla regione. No, ma chi l'ha detto i membri degli ATC? Nessuno. Ma dalla provincia? Ma è così. È vero, questo è vero. Ma chi l'ha detto? Ma non è che non è buono il corso. Allora, il fatto è questo. Infatti c'è stata la provocazione, allora, disconoscete la provincia di Teramo. E noi abbiamo detto, allora, annullate la libera. Annullate la libera, sì, ma non lo possono fare. Non possono farlo. Perché, allora, nel corso di questi tre anni ci sono stati due regolamenti, cosa normalissima. C'era un regolamento vigente prima che diceva in quale modo bisognava fare i corsi e chi li dovesse riconoscere. Quindi, il regolamento fino al 31 dicembre 2013 diceva che le associazioni, gli ambiti di caccia, la provincia, la regione, chiunque poteva fare corsi formativi rispettando un percorso didattico dettato dall'ISPRA e che l'ISPRA doveva riconoscere. Questo era il dettato normativo. E diceva che la provincia rilasciava i tesserini e approvava il corso. L'unica cosa necessaria era l'approvazione dell'ISPRA. Se non c'è l'approvazione dell'ISPRA il corso non era valido. I due ATC, Salinello e Vomano, hanno il riconoscimento dell'ISPRA, hanno fatto il corso didattico previsto dall'ISPRA. La provincia di Teramo ha riconosciuto i corsisti e li ha messi pubblicati sul sito della provincia di Teramo dal 2013. primo gennaio 2014 la regione Abruzzo si dota di un nuovo regolamento e dice che chi vuole fare i corsi chiede alla regione l'autorizzazione. Ecco, che iter deve seguire. Poi però chi approva non è più la provincia ma è la regione. È chiuso qui. Oggi se l'assessore Pepe, come ha detto alla stampa, dice che la regione non ha riconosciuto quel corso, ha detto la verità. Ma chi gliel'ha chiesto il riconoscimento? Nessuno gliel'ha chiesto. Perché non deve autorizzare la regione quel corso degli ATC Vomano e Salinello. Se l'ATC Vomano e Salinello facevano un corso nel 2014, nel 2015, nel 2016, chiaramente deve chiedere alla regione l'autorizzazione. Ecco, è tutto qui. Ma in tutto ciò la legge che dice? È chiarissimo. Questo è il regolamento regionale. In tutto ciò è del regolamento scritto. Ma quindi voi stavi dicendo prima che alla fine ci saranno le vie legali? Ci saranno? Le vie legali per quanto... No, le vie legali sono per la diffamazione. Per quanto è avvenuto... Per quanto ha detto l'Arcicaccia e la Galit, non so se conoscete la sigla, la Galit in una riunione prima, l'Arcicaccia ieri, quindi se ci sono gli estremi, le prime risposte pare che ci siano. Quindi preannunciate dei ricorsi... Certamente, una querela per diffamazione. Ecco, questi sono i risultati. Beh, sicuramente, questo è un po' quello che dicevo prima, non c'è molta unità di intenti all'interno del mondo venatorio. Sì, però bisogna distinguere i livelli. Allora, se una persona, solo perché ha la tessera in tasca di un'associazione venatoria, non è manco titolata a parlare di una politica venatoria per quell'associazione. Allora, se il tuo regionale dichiara qualcosa, vuol dire che ha sentito il consiglio direttivo regionale, vuol dire che ha una linea su quell'argomento. Ora, se mi viene uno da Canicatti e smentisce quella linea, posso capire che giornalisticamente può fare notizia, ma in effetti questo qui non è che determina la politica di quell'associazione. Questo mi pare normale. E' la stessa arcicaccia da aver spiegato più volte unità all'interno del mondo venatorio. Sono solo parole? Beh, a questo punto sì, perché vede noi, torno sempre alla federcaccia, altrimenti siamo la più grande, siamo quella che un po' guida un po' nel mondo venatorio, un po' le linee e tutto il resto, con l'indipendenza di tutti. Ognuno ha la propria... Siete l'associazione con il più alto numero di iscritti. Beh, noi rappresentiamo oltre il 50% da soli. Per cui, anche se loro hanno dichiarato ieri, tra le altre cose, che tra Libera Caccia, Inalcaccia e Arcicaccia erano il 65%. Non so dove l'hanno preso, perché noi siamo oltre il 50%, per cui... Non so dove prendono loro il 65%, ma non è importante ora tutto questo. Ma questo è per dire il modo di comportarsi e dire... Tornando a noi prima, la Federcaccia, l'Arcicaccia e l'ANU sono già tre associazioni che hanno fatto già un accordo nazionale. Siamo tre associazioni che ancora manteniamo, diciamo, il nostro simbolo, la nostra autonomia e indipendenza, ma ormai operiamo insieme a livello nazionale. Stiamo già lavorando per fare tutti gli accordi a livello regionale e poi lo arriveremo anche a quelle provinciali. A livello provinciale in questo momento è un po' difficile. Chiaramente poi adesso sul territorio forse troveremo qualche difficoltà, ma non solo, forse nella nostra regione. È chiaro che ogni cambiamento ha i suoi momenti, però risulta un po' strano. Ma il cittadino meglio verrebbe da dire, tutto questo per la caccia alla beccaccia? No, non è solo questo. C'è tutto l'insieme di cose, c'è la caccia alla beccaccia, c'è la gestione del territorio, c'è la gestione degli ungulati, c'è il rapporto con le amministrazioni pubbliche, anche col mondo politico. A volte bisognerebbe essere sereni di animo e trasparenti nei comportamenti, tutti quanti noi, perché poi di difetti ne abbiamo tutti. Può capitare che un'amministrazione di un certo colore politico possa determinare anche un mio comportamento a volte più morbido su alcuni argomenti o più rigido sugli stessi argomenti. Della serie, vabbè, ognuno ha le sue idee. Ognuno ha le sue idee, però questo non dovrebbe mai coinvolgere quello che è il dovere associativo di essere rappresentanti di una categoria. Ora, se io solo perché gli amministratori attuali sono della mia corrente politica o del mio credo politico, gli faccio chiudere la beccaccia al mese di novembre, io credo che ho diritto di ricevere una pedata nel sedere dai miei soci, che mi devono cacciare da presidente. Questo mi pare che sia corretto, no? Se un'associazione rappresenta gli interessi di un mondo, non posso vendermeli perché politicamente ho questo interesse io in questo momento. Vabbè, questo poi è una sua considerazione. Beh, ma è la realtà dei fatti. Questa è una sua considerazione, però... Allora, voglio dire, se un segretario nazionale o locale di un'organizzazione sindacalista, di un sindacato, no? La CGL, facciamo un esempio così, no? Solo perché oggi governa il PD, mette a posto i metalmeccanici, zitti tutti, non si rinnova il contratto di lavoro, né niente, è corretto? Beh, io credo che lo buttano fuori a bullonate, no? È normale questo. Allora, se io oggi non difetto il calendario venatorio, se io non difendo la caccia, no? per i miei soci, solo perché ho un amico assessore? Non può essere, no? Beh, il governo, tra l'altro, parlando di calendario venatorio, ha commissariato, stanno dicendo, diverse regioni italiane, tra le quali le Marche, per non avere modificato il calendario venatorio. Sì, questo, prima ancora che la Corte Costituzionale bloccasse il governo, quindi le Marche continuano a... Invece l'Abruzzo... L'Abruzzo non è stata commissariata. È perfettamente in regola. Beh, secondo quello che dice Galletti, non so quello che diciamo noi. Ci sta facendo vedere proprio il calendario venatorio. Sì, questo è il calendario. Il nuovo calendario. Sì. Con la tortora, la cornacchia, ecco, le varie specie. Non c'è stata la proposta di commissariamento per l'Abruzzo, che l'Abruzzo ha superato pure la volontà di Galletti. Cioè è andato oltre. Sì, è andato oltre, certo. Quindi Galletti, figure, di Abruzzo ne vorrebbe 20 in Italia. Quindi siamo i migliori d'Italia. Beh, dal punto di vista. Tra virgolette, dipende dai punti di vista. Dal suo punto di vista, no, ovviamente, nel frattempo sì. Siamo i peggiori attualmente. Questo io lo posso certificare. Corre il calendario venatorio e guardiamo le varie specie, la lepre, la volpe, sì, perché poi, ah, ecco, anche la caccia alla volpe, che non si fa solo in Inghilterra, evidentemente, come sport. Eh, beh. Il colombaccio, la starna, la beccaccia. E come vediamo, infatti, ci sono periodi diversificati per ogni specie. E il cinghiale. Il cinghiale, sì. Il cinghiale che tanti danni produce all'agricoltura. Sì, ne produce, ne può produrre, ne produce, sicuramente. E proprio qui, diciamo, dove entra un po' quella fase di cui parlavo prima, soprattutto è la più evidente, no? Perché è chiaro che quello... Forse sui cinghiali siete anche più rispettati rispetto... Forse se voi operaste solo sui cinghiali, saresti più rispettati come categoria. Può darsi di sì, anche perché l'animale, il cinghiale è brutto e nero. L'umore generale, no? Il cinghiale non piace, quindi va bene se si spara al cinghiale. Ma perché si è sempre parlato del cinghiale come il distruttore delle colture agricole, per cui anche nell'immaginario collettivo si è pensato a un animale distruttivo e poi, ripeto, non è il bambino, è brutto, nero, fa pure un po' paura, per cui nessuno si spreca a difenderlo. Senti, ma il piano faunistico in tutto ciò, in tutto ciò che dovrebbe essere, dovrebbe regolamentare, l'Abruzzo ha un vecchio piano faunistico, che risale... Il piano faunistico, diciamo, io lo paragono sempre a un piano regolatore... Oltre 25 anni fa, 20 anni fa? Nel 94. Andrebbe rinnovato ogni cinque anni. Sarebbe quasi obbligatorio. Non è poi quello che detta le regole? No, le regole sono più dettate, parliamo di caccia, le regole, le regole del calendario di anno in anno, con i periodi di caccia, il numero dei prelievi e tutto il resto. Invece il calendario venatorio è il piano faunistico, è il piano regolatore dei comuni, che decidono dove fare l'impiantistica sportiva, che decidono dove fare le zone industriali e artigianali, dove costruire strade e dove no, dove fare le fognature e dove piazzare il depuratore. Il piano faunistico è quello che stabilisce dove poter fare le zone di riprovamento e cattura, le aose di tutela, le zone di caccia, le zone addestramento cane. È il piano regolatore dell'attività venautoria completa. E all'interno del piano faunistico si determina anche gli obiettivi che ti prefiggi. Il piano regolatore si prefiggi di far vivere una certa categoria sociale in un certo modo, dove fare le case popolari, dove fare il cimitero e tutto il resto. Il piano faunistico determina dove fai gli allevamento all'aperto, dove fai le zone di riprovamento e cattura, determina tutti questi aspetti faunistico-agricoli per mantenerli in ottemperanza e tutto il resto. La legge prevede un rinnovo del piano faunistico regionale ogni cinque anni. Non è stato mai fatto, ma questo ora non è che si vuole addossare colpi a nessuno. Sono passati tanti anni, in effetti ci sarebbe bisogno di rinnovarlo, ma ogni cinque anni l'assessore che arriva... Non è solo colpa di Pepe, insomma. No, no, questo non è solo colpa. Anche perché prima il precedente assessore non è che lei andasse d'accordo col precedente assessore. Assolutamente, pure essendo dalla mia parte politica... Esatto, con Mauro Febbo, che era il precedente assessore. Le do una chicca. Allora, con Mauro Febbo ci siamo riparlati con l'assessore Pepe all'assessorato in regione, perché finalmente Mauro Febbo è venuto sulle nostre posizioni. È venuto a cavalcare l'onda. Va bene, è troppo facile. No, questo per dire un po' anche della mia correttezza. Non essendo Mauro Febbo, oltretutto un amico politico, perché ci conoscevamo da prima, abbiamo rotto i rapporti quando lui ha fatto l'assessore. Però devo dire che effettivamente c'era stato un bello scontro anni fa anche con lui, nonostante fosse... Sono rimasto pulito sotto l'aspetto... In quella parte politica. E a questo punto la caccia, dove sta andando? Ci sarà sempre meno spazio comunque? No, io credo di no. Noi abbiamo... Parliamo magari solo dell'Abruzzo, così... No, solo dell'Abruzzo? Sì. Beh, vabbè, anche noi siamo legati un po' all'andamento europeo, mondiale, ai cambiamenti sociali, a tutto il resto. Io credo che noi dobbiamo fare un salto di qualità. Tutto il mondo venatorio. Ci rendiamo conto che non sarà facile. Ci stiamo provando già da anni, perché, sa, avere per una vita intera radicati alcuni comportamenti, radicati alcuni modi di affrontare l'attività venatoria, il modo di impegnarsi per la caccia e per l'intera società. Insomma, raggiungere questi obiettivi non è cosa... Sarà poco. Ci stiamo provando. È difficoltoso. Però noi questo salto di qualità dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo perché ce lo chiede la società, perché se veramente, come diciamo e dichiariamo sempre, se è vero che ci teniamo la nostra passione, vogliamo vederla conservata negli anni, non possiamo neanche immaginare che questa può rimanere quella di 50 anni fa. Bisogna fare il salto di qualità e quindi diventare noi, insieme agli agricoltori, come stabilisce la legge, diventare veramente i gestori del patrimonio generale degli italiani e dell'uomo, e cioè il territorio, gestire il territorio e la fauna. Allora, in questo senso sicuramente noi recupereremo un'accettazione e anche un rispetto maggiore da parte dell'intera società, quando riusciremo a far capire che in effetti ci stiamo muovendo, per la nostra passione, ma anche perché sul territorio si realizzi un equilibrio possibile che va a favore sia degli animali selvatici, dell'intera società e delle generazioni future, perché sennò da questo non se ne esce fuori. Quindi è una sorta di equilibrio con l'ambiente e con la fauna. Intanto siamo alla conclusione, in pratica per ritrovare l'equilibrio con la regione, quale sarà il prossimo, esatto, il primo step? Dico una cosa che non so se si realizzerà, io mi auguro di sì, parlando ieri sera con gli amici degli ambiti di caccia e anche con i nostri dirigenti che ne fanno parte, ci siamo detti che questa diatriba ogni giorno sui giornali non fa bene a nessuno, stiamo a dare una dimostrazione di eterna belligeranza che poi non porta a nulla. C'è l'idea di invitare l'assessore Pepe a un confronto pubblico, di invitare l'assessore, non solo lui chiaramente, che è il rappresentante politico, dopo tutto non è detto che debba essere un esperto tecnico. E' un confronto pubblico? Pubblico, mica perché per fare casino col pubblico, per l'amore del cielo. Magari invitarlo anche in televisione, no? Se qualche rete televisiva lo vuole fare, noi siamo... Beh, noi ci mettiamo avanti per questo confronto pubblico. La proposta che... Invitiamo l'assessore Pepe, magari... La proposta che volevamo fare noi, adesso dipenderà dagli ATC e anche dagli altri componenti delle associazioni venatorie, bisogna fare un accordo d'insieme, invitare l'assessore Pepe a un confronto insieme ai suoi tecnici. Noi con i nostri tecnici, noi siamo i politici venatori. Lui è il rappresentante politico del mondo politico nel campo della caccia. I tecnici ci spiegheranno, se sbagliamo noi a leggere le leggi e i regolamenti, noi spargiamo il capo di genere, non c'è problema. Non c'è problema se l'assessore Pepe raccoglierà questo messaggio, questo messaggio di pace... Beh, noi se lo chiederemo, ma credo che lo chiederemo, credo che lo chiederemo sicuramente, ci aspettiamo che lui accetti. Perché non è fatto per metterlo in difficoltà, è fatto proprio per arrivare a una conclusione, a una soluzione di questa diatriba che secondo noi non ha neanche modo di esistere, non dovrebbe esistere. Va bene, grazie Armando Morelli, presidente di FederCaccia Abruzzo, che ci ha introdotto anche in un universo sconosciuto, al di là di queste beghe interne apparenti e nell'universo della caccia. Grazie a voi per questa possibilità. Grazie ancora. E speriamo di vederci in questo incontro. Va bene, grazie ancora. Noi con 45 Giri invece ci ritroveremo domani per un altro appuntamento. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.